questi quando li ammazzano domattina all'alba sono stati confessati non lo so adesso me ne accerto ma chi è è il nuovo padre confessore viene dalla spagna è severissimo implacabile un fanatico se volete salvarvi rispondete sempre di nuovo a qualsiasi domanda e tu chi sei io sono il suo chierichetto studio ancora in seminario santo cielo non sono mai stati battezzati adesso si incazza non sono mai stati battezzati non ti hanno battezzato no no non vuoi morire con la coscienza in pace no ha detto no ma questi ragazzi non sono pagani sono bestie diavoli neri qui ci vuole il battesimo per direttissima in piedi in piedi alzatevi bestie bestie acqua benedetta subito dai buoni preti stanno pregando non li possiamo disturbare dalle buone suore a quest'ora non importa c'è il mare qui vicino sergente e affogano scortateli fino alla spiaggia ma senza farvi vedere da nessuno presto prima che il marchese gonzac lo venga a sapere morirebbe di dolore avanti grazie 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 vai via andiamo ho dimenticato di salutare il governatore e io di questi che ne faccio se si svegliano fagli la solita anestesia Mmmmm